Mattia, primo degli esordienti di primo anno e campione regionale, che giornata! Sì, bella giornata, oggi ero in forma e sono riuscito a vincere. Come andava affrontato questo percorso? Andava affrontato sui pezzi di dritto, aveva anche asfalto a recuperare e dopo sulle curve, se si sapeva guidare, a menare. Mattia, hai fatto un bellissimo arrivo, hai alzato la bici come Vanderpoel, questo sport è magico. Sì, è la mia disciplina preferita con la bicicletta e la continuerò per il prossimo anno fino a Juniors, spero.